No, io qualcosa l'ho fatto Ho giocato un po' online a questo gioco Io no Sì, ma l'online L'online se giochi con gente casuale Non riesce a combinar niente Più che altro è meglio fare uno contro uno Pisso, ma c'è un torrente in mezzo E' qua No, raga Eh sì, quindi anche qua si cade Ma cos'è questa cosa? Ci sarà il ponte che andrà avanti indietro con gli ingredienti in mezzo Raga, i punti sono tantissimi I punti sono tanti Magari è più facile Ma quindi c'è il ponte mobile Burrito Burrito, perfetto Riso, riso La carne Se volete la passo io la roba Sto qua in mezzo, ve la passo io e già la gestite voi Ah, ok, la carne Riso pronto, raga Mi manca, mi manca il burrito Sì, mi manca il pane e la carne Ok, vai Eeeh, a voi servono i piatti? No, servono a me Non mi metti la pente Abbiamo i dati infiniti qua? DG Però ora Raga carne, mi serve carne pronta No Eh, arrivo, aspetta Dove cavolo? Gravo È qui Se i Goycon mi danno tregua magari Ok Il passo del riso C'è della carne pronta Come me la passo? Hai sbagliato Devo attraversare Devo prenderla io No, faccio io Faccio tutto io Ragazzi non incasinatemi Me la pentono Qui c'è un'altra pronta Ecco Gio, prendi tu questa Se lui ha preso l'altro Raga, raga, piatto pronto Piatto pronto, raga Gio, devi passare te Sì, sì, ma questo passo Oddio, sta laggando un po' Mamma mia E lanciami altra carne No C'è una padella al salvo No No Dai Crucia Ma io torcerò Dove di passarmi la carne Dio, ti stai proprio lavando Raga, ma dove la pentola? Raga, ma la pentola dov'è? È sparita una pentola? No, è lì, lì fermo Davanti a te Eccola 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 Una carne, raga, una carne Siamo indietro Eh, infatti mi serve la carne Arriva Raga, siamo a zero punti Siamo a metà del team Praticamente 83 Io come sono arrivata? Un pollo ti serve Eh, anche un pollo, infatti No, lascialo là No, no, ce l'ho fatta Ma io come ci sono arrivata di qua? Mamma mia E' crollato tutto Crollato tutto Si è modificato il livello Ragazzi, qui c'è altra carne Giù, prendila, prendila Giusto quando doveva modificarsi il livello Dovevo passare io Davvero? Raga, lasciate la carne La carne, la carne Io ce n'è altra Mi hai mezzo in vestito giù, grazie Ve la metto nel piatto No Ma non è vero, non sono caduta Non morire C'è la zattera là Ragazzi, non sento più Cioè, sento massolore Eh, io da mezz'ora che sento così No, questo è da buttare Tornando a bassa voce Perché c'era un burrito pronto Voi avete messo due carni insieme Eh, ho sbagliato io Colpa mia Mi serviva il pull Sono anche morto Mi serve anche la padella, ragazzi Arriva È morta È qua da me Mi chiudo Ma è incastrata la padella No, la padella Qui c'è altra carne Raga, abbiamo tre burrito pronto E neanche Giù, prendila carne Non abbiamo neanche la carne Arrivo, arrivo, arrivo Un attimo Raga, due pollici Servono due polli E una carne Due polli e una carne Ancora Sì, adesso è la carne qua No, io Io Spaccherò questi gioi Con il nostro gioco Eh, arriva il pollo Qui c'è la carne Un burrito pronto No, non è che non giocherò mai più Sì, lo so Cioè, no Nel senso Che cosa sta succedendo? Raga, siamo in tre a mezzo No, ragazzi Siete in troppo Prendete voi la carne da qui Aiuto Faccio io avanti indietro Voi passate Mela io la metto a cucinare Una volta pronta Venite a prenderla Faccio io avanti indietro Dai No, ragazzi Ormai non ce la facciamo Io c'è un burrito pronto Di qua Arrivo Perché si forza il mio? Non posso giocare Non è possibile Ma vedi anche a me cade Non riesco a prendere un singolo ingrediente Che si muove a causa del personaggio Perché mi avete portato via? No, no, no Perché? Perché mi avete portato via il burrito? No, io ce la faccio, raga E vabbè No, è andato un po' malino questo Raga, in questo livello Vado a tagliare Perché non riesco a muovermi Per cucinare Ci muoviamo troppo Tutti quanti troppo State fermi in un posto E c'è uno solo Il mio è gestibile invece Quindi devo Sì, anche il mio Ma guarda che farei fatica anche a tagliare Vedrai Sicuramente di meno Però si fa fatica No, ma io vado a tagliare Vengo a tagliare Vi passo io gli ingredienti Voi state fermi dove siete E faccio avanti e indietro io al massimo E vieni anche a prendere la carne quando è pronta Faccio io avanti e indietro Sì Io passo gli ingredienti allora No, non lo so Il cucino e basta Sì, tu cucini Giù passa gli ingredienti E noi tagliamo E nel momento in cui è pronta Vieni giù e lo porta Esatto Dai, si parte Allora, carne e pollo Ok Il riso Il riso No, che fa Allora, una carne qua Mi prendo il riso Tu prendi la carne State calmi State calmi Anche se non avete niente da fare State calmi Allora, il pollo Ma perché? Perché? No Cosa? Burrito, mettilo nel piatto Oddio, riso, riso, riso No No Io sto laggando praticamente La carne, la carne, la carne, la carne La carne, la carne Qui c'è della carne da prendere giù Qui c'è del reno Grazie C'è anche un piatto qui E anche il mio si muove da solo No Calmi ragazzi, calmi C'è Lorenzo che sta sclerando Mettilo lì Ok, quei due burrito lì Fermi Fermi quei due burrito lì Allora, uno è pronto Io ti ho consegni tu giù Ci penso io Ci penso io Occupatevi del riso Ho detto consegna a te Ho detto consegna a te Mi serve la carne Io Lorenzo non lo sento proprio Allora, lì ti ho rimesso la padella Io sono cascato giù ma non vi preoccupate Mi sa che hai crashato Lorenzo in Discord Allora, ti serve Questo? No, questo no Ti serve carne, normale E tu devi venire a prendere il piatto qui Uno e arrivo Ok Ci devo capire I piatti dove sono? È un piatto qui che devi prendere giù con il pollo E questo andrà Quando consegna ci arriva Quando consegna ci arriva Troppo c'è da aspettare Però vabbè Non importa Eh, tra poco dovrebbe cambiare Qui c'è altra carne Pronta Ok, ci sono i piatti Ok Un altro piatto è pronto Calma Qua c'è il riso Sì, ma il mio personaggio va a casa Vabbè Allora, cosa tanto ci serve? Riso da cuocere Pollo Gio, c'è qui No, mi manca la padella Dove me l'avete messa Allora, qui E manca l'altro Calmi, calmi Non accelerate Non accelerate Che stiamo andando bene No, io non la premo proprio lì Padella è lì Ok, la padella è lì Ok Poi qui c'è dell'altro pollo Preparatemi Sì, prenderò C'è una pentola che è buggata Ho rubato un cavolo Me la fa prendere Ma Ersie Dove cavolo stai Dove cavolo stai facendo Non lo so Io sono ferma Mettila lì Ok Dai, dai, dai Siamo 219 Ragazzi Siamo 219 Tutti fermi dove siete? No Non posso muovervi Perché l'ho lanciato? Ma no Ma non mi fa prendere Ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Ero dentro la padella Ma a me mi dice Che la padella È sul lato di otaku Arrivo, arrivo Soltanto un secondo Che la pentola è sul lato di otaku Allora, state accelerando State accelerando troppo ragazzi Calma È pieno di sorriso E a me la carne Eh vabbè Io sto fermo Allora, occupatevi dei due risi No Non dovete lanciarlo a me il riso Taglia il pollo Eh sì, ti sai Dovevi prendere la padella Prendi la padella Ok, metti lì dentro Con la carne Burrito Io non posso Io non posso tocare Questa padella Fermi tutti Fermi tutti Con quel burrito Io Siamo finita invisibile Ok Ma quanto stiamo laggando Fidatevi ragazzi Che io vi sto guardando E funziona tutto a meraviglia Ma non da noi Prendi, prendi la padella Prendi la padella Anche adesso Prima adesso brucia Eh vabbè Ecco 4.42 Allora, non siamo andati male Abbiamo recuperato bene Dai, su Una stella C'è sempre meglio di prima No, io non riesco a giocarlo Con questo gioco Neanche io Oggi Con questi joycon Veramente Non ce la faccio più Ma il problema È che stamattina andavano Giusto adesso Non vanno No, i miei Proprio da quando Stavo registrando Vi ricordate che Ho dovuto spegnere tutto Sì Sì, sì Quello di Mario Kart Dai, non buttatevi giù Di morale Su No, no Io sono carica È gioco facile dire Tu giochi con un controller Normalissimo Ma ascoltate I joycon Io quando ho dei problemi Che manca il segnale Li prendo in mano Solo con le dita Non li abbraccio con la mano Eh sì Infatti io Solo con le dita Ho l'impugna Ho l'impugna Il cagnolino Non so come Caspita si chiama Cioè Hai capito No, no No, no Eh sì Ok Però ho anche il cagnolino Tienilo solo con le dita Perché se abbracci il joycon Con la mano Copri l'antenna Io infatti ho solo le dita Ma è la levetta Che ha problemi Va da sola la levetta Noi non la beviamo Esatto Dai, vediamo come procede la storia Ersi Leggi tu, eh Sì Vediamo cosa ci dice Il cipollone Eccoci qua Aiuto Aiuto Mi sei bloccato Chi è là Fatti sotto Coraggio Oh cielo Siete voi Che miglioramento Siete affiatatissimi Molte virgolette Esatto Diventate sempre più forti E molto rapidamente Il pane malfermo Tuttavia rimane un grande pericolo Lo pensi davvero? Purtroppo sembra che Dobbiate dirigervi a sud Nelle paludi infestate Lo so Lo so Nessuno è mai tornato dalle paludi La situazione però è disperata Inoltre siete coraggiosi Astuti La squadra più forte Ma è esistita Ersi ci sei? Sì, sì Ok Sto avendo problemi con il wifi A parte forse La baguette posseduta Che insegue Terremo noi a badalorda Ora andate Ma questi discorsi Veramente Comunque scusate se prima Si è chiusa la chiamata Però mi si è proprio staccato Il wifi Dalla consola anche Però non so Ma Sei in wifi o hotspot? Che non riesco a capire Eh, allora Si era staccato il wifi E ero con l'hotspot Poi si è attaccato il wifi Al telefono E si è staccato l'hotspot E quindi la switch Si è dovuta riattaccare Ma non riesci Dalle impostazioni Disattivare definitivamente Il wifi? Eh, magari Però non Non va Aiuto Elimini dalle impostazioni Del wifi La tua rete Cioè, elimini proprio tutto Così non ti si collega Ma adesso Ho tolto l'hotspot Perché dovrebbe andare il wifi Ok Dai, 4.1 Nuovo mondo Aiuto Ma quanti mondi ci sono? Eh, secondo me 4 o 5 Cioè, non 4 o 5 5 o 6 Bello questo Sembra bello Qui cadere Diciamo che diventa molto difficile Eh, sì E mi sa che avremo Due ingredienti Eh, il sushi mi sa No Oddio, siamo tutti qua No, no Gamberi e sushi, sì Allora, vi porto i gamberoni Intanto taglio questi io Oh, santo Gesù Perché siamo in tre qua? Allora, qui ci sono questi Non so che cosa Come ci organizziamo? Io sono in mezzo Allora, voi due dentro Vi occupate del riso Dove fare il sushi? Eh, questi Questi qui li mettono nel piatto I cetrioli? Eh, sì No, nel riso Nel riso Che dobbiamo fare sushi Sì, vabbè La stessa cosa Poi il riso E ci serve questo Qui c'è del riso Che No Ok, con il segno Ok Attenzione alle auto Ragazzi Tagliate il pesce Il pesce con l'azzurro Eh, non c'è quel pesce Sì, c'è però È all'angolo No, perché l'hai consegnato? Cosa? Mancava il pesce No, eh, ma non potevamo più mettere C'era il Il gambero al posto del pesce Non potevamo più cambiare I piatti Allora, questo lo possiamo mettere No Raga, state attenti nella strada Ok, questo Il cetriolo No, perché l'hai tolto? No, dai Ragazzi I piatti Allora Io mi occupo del riso E lavo i piatti Sono anche due palle Quello scelto Il riso qui è pronto A tagliare Vedete voi Metti i piatti di giù Lorenzo, calmo Lorenzo, calmo Ma non mettetelo sulla piastra rotante, ragazzi No, l'ho messo perché quel piatto lì era inutile Non c'era più il gambero Non c'era più Aveva il gambero quello lì Vabbè, qui mettiamo questo pesce Questo No, la L'alga No, fermo, fermo, fermo Qui L'alga Ma se passa sulle strisce pedonali Mi investono lo stesso Sì, è uguale E allora te l'hanno messo a fare Io non ci sono ancora passato Mi occupo io della strada Non vi preoccupate Voi preparate Oh, ho riuscito a prendere il pesce Un pesce e un citriolo Tagliato Ok Il piatto Ok, questo è pronto Pesce No Fermo lì Adesso è pronto Me ne occupo io Vado Ah, qui c'è il riso, ok Riso Aiuto Vieni qua A posto Eh, quello non lo posso più prendere Qui Qui L'alga E il pesce si serve Vado a prendere 121 abbiamo fatto un ingrediente Ragazzi il pesce Ragazzi il pesce Quindi lo portano di là No ma non fate il giro Tanto potete Eh, infatti puoi passarmelo da qui Il riso No, che cavolo Allora Dove sono i citrioli raga Sono qui Dove c'è il piatto Riso Citriolo Citriolo qua Qui E l'alga No No, che schifo Allora Oddio Abbiamo davvero fatto così schifo Sì Allora Io mi occupo della strada Sto in mezzo Uno si occupa Io lavo i piatti Uno lavi i piatti Uno deve andare a destra E l'altro E l'altro Esatto Allora io vado a destra Vi passo il pesce E lavo i piatti Io sto al riso, ok Aspetta ma Come fai a lavare i piatti Se i piatti sono a sinistra No, allora I piatti sporchi Sono di là E poi Faccio io avanti e indietro Faccio io avanti e indietro E il pesce ve lo porto io Ma quindi Tre Tre di noi Cioè praticamente noi tre Tranne Joe Dobbiamo stare a sinistra Due tagliano E uno Si occupa del riso Io faccio avanti e indietro Non vi preoccupate È più facile di quello che pensiate Io taglio Uno riso Due tagliano E io vado a recuperare la roba Da portarvi Quella che vi serve giusto Io riso Ok Non un ingrediente di più Non un ingrediente di meno Io riso Ok quindi Ersi e otaku tagliate Sì Ok vediamo Riso Riso te Lorenzo Perché tanto Ti arriva da Io ma perché Allora pesce azzurro Metto anche le foglioline sul piatto Io Metto le foglie sul piatto Sul piatto Sul piatto Le foglie Non riempite già i piatti Non riempite già i piatti Perché è inutile Ragazzi Ma sì però Lo devi controllare il riso Sì ma non ci serve adesso il riso Non dovevi mai Trollare il piatto Giù qui Pesce singolo Gio 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 pronto Ce l'ho io Ce l'ho io in mano Se c'è un piatto Aiuto Lasciamelo qua Mettilo qui Ok lo porto io Ersi vai a prendere il piatto da lavare Ci penso io Sono già qua Ok Ok va bene va bene Lo metto qua dentro Lavalo pure Sì Questo mettilo nel piatto però Il riso mettetelo nel piatto Sennò non potete più cucinare È un piatto Salmone 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 Qua dentro Lascia Dai tranquillo Dai tranquillo Lascialo giù Lasciate giù il piatto Lasciate giù il piatto Allora tagliatemi questo pesce Sì Non me ne ho un attimo confuso Tranquillo Mettilo qui dentro Mettilo qui dentro Che fa un altro piatto pronto Salmone Ok Allora Manca la foglia E i piatti Vado a consigliarne uno Attenzione Ok risi Oddio Ho fatto il gambero Ersi lava Sì Ok Ho già un piatto pronto Perfetto Ehi Tegliatemi il poverone Santo Gesù Aiuto Ok Lavate il piatto Raga ci sono due di riso pronti Ehi serve È il piatto Lascia giù No perché lo prende Metti giù No no Non occupate Dai devo semplicemente consegnare il gambero Vai No no anzi no Mi serve il pesce No il salmone Il salmone No aspettate Aspettate un secondo Questo qui Deve andare qui Piatto Eh Manca una pentola Dai 266 Su Inutile Laga questo piatto Laga questo Ah sono state notte Vado a buttarlo Ah oddio Allora sono stata io Questi sono piatti C'è un riso pronto Ok i piatti I piatti Non li abbiamo visti Aspettate Te ne metto anche un altro Ma Arriva il salmone Ah ma tanto ormai è finito il livello Ehm 266 Ma perché a me è finito Non è ancora finito A me non è ancora finito Il livello Ok adesso si No no è finito È finito Ma dura pochissimo Cavolo Ci dobbiamo concentrare di più Quanti tagli servono a questo video No ma non posso tagliare queste parti qua Io no non taglio niente Vi metto tutto così Guardate bene quello che abbiamo combinato Oddio Tranne la parte iniziale Stiamo facendo un casino Preparate Sapete cosa Preparate troppo riso E tagliate troppi citrini Cetrioli Sì Allora partiamo Otaku Partiamo tagliando solo due cetrioli No 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 Non tagliate nulla Non tagliate nulla Se non serve non tagliamo nulla Mio dio che voce robotica Sì anche io l'ho sentita Pensavo stessi la canto io Allora Ersi Le ricette non partono subito col cetriolo Sì è che sto facendo confusione Scusate Quindi Sushi Quindi un citriolo tagliatelo Preparate riso Coso verde e citriolo Un citriolo è fatto E io vi porto il pesce da tagliare Anzi lo taglio io visto che sono già qua Via Riso qua dentro Ok datemi la pentola La pentola non è pronta Non è cotta Non è cotta Sì ecco No Adesso è posto Io vado Consegno Poi Ho preparato un altro citriolo Riso pronto Non mi serve niente quel citriolo Buttatelo via Ok Arrivo arrivo Dovete semplicemente tagliarmi un salmone e un gambero Fatto Ok piatto Ah scusa scusa Ok tagliatelo Tranquillo Ok Allora possiamo consegnare Sia il salmone sia il gamberone Eh sì piatti Sì Ve li metto qua da tagliare Poi Un riso Ok Pesce blu Da tagliare Un citriolo e un salmone Che il salmone c'è Certo pronto Il riso è qua pronto Citriolo sì raga Ok Un coso verde Non mettetemi il citriolo Un coso verde Ok Questo Questo Qualcuno Che vuole prendere i piatti Ok Arrivo Grazie Poi Gio chiama le foglie E non il coso verde Perché mi confondo Con il citriolo Ok Aiga in realtà è Appunto Io le chiamo foglie In generale Adesso non mi veniva il nome Aiga Allora citriolo Alga e riso Ok Il riso c'è Il riso c'è L'alga pure Vabbè qua c'è Vai Tagliato un altro citriolo Dai che stiamo andando Torna a porto piatti Stiamo andando da dio Eccolo Ragazzi Sto aspettando il pesce Qui c'è un citriolo Eccolo Piatti pronti Mi fregate le pentole Chi lo lascia Magari Ma tiro giù Ma tiro giù Alga Alga Allora Il riso Mi spostate un attimo Ok Mi serve un'altra alga Dove c'è il salmone Ok ce l'ho Brava Ersi Questo lo consegniamo Mettete il riso Ed è pronto anche quello Gio torna e porta i piatti Prendo prendo tranquilli Mamma mia Oddio Stai rischiando un botto la vita A gioco stasso Ah non importa tranquilli Vai Ersi Lava i piatti Manca Ok Pianti Non ce li ha Arrivo 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 Vi porto il salmone Vi porto il salmone Questo è pronto C'è anche il riso dentro Citriolo Riso E alga L'alga è qua Ersi Ersi Fai tu il citriolo Sì Raga Dici No 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 Ok Ragazzi Mi serve un piatto Mi serve Ok si rista lavando Vai Ok Risto Vai Eh Buono 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 Però siamo andati No siamo andati bene Per poco Due stelle Più veloci Però va bene Comunque Se è 40 è tosta Allora io ho trovato Quello che devo fare Devo lavare i piatti Basta Ma no Ma no Vabbè dai Però eravamo Ben organizzati Stavolta Sì sì Stavolta sì Perché quando partiamo Partiamo sempre che Vogliamo fare tutto Quindi Esatto Sì 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 sì